Lo sapevi che in Grecia c'è un locale completamente rosa, dalle pareti fino ai piatti che vengono serviti? Ci troviamo nel cuore di Atene, a due passi dall'antica Gorà. Qui troverai torte pazzesche, egg benedite e cappuccini rosa. Il suo nome è Elitz Caffè. Condividi questo video con chi porteresti qui con te.